Festa per l'Avis comunale, ma è festa per tutta l'Avis, si è capito dai gemellaggi, dagli scambi dei regali. Sì, sì, oggi è una festa grande, nel senso che oggi abbiamo celebrato anche ufficialmente il gemellaggio delle due istituzioni che ci hanno accompagnato in questi anni, Capistrello e Ferrara. Oggi era presente l'amministrazione di Capistrello nella persona del sindaco che ha suggelato questo tipo di collaborazione. Era tanti anni che si voleva fare questa cosa, ci siamo riusciti quest'anno, ma questo ha importanza perché? Perché vuol dire che le istituzioni contano su Avis e Avis conta sulle istituzioni e i risultati si vedono quando c'è la collaborazione. Avis Ferrara ha preso ad esempio per le altre Avis di tutto il territorio nazionale, è stato ribadito oggi più volte? Sì, più volte è stato ribadito soprattutto per il legame che Avis Ferrara ha con il territorio. Non c'è nessuna istituzione, nessuna associazione nel territorio di Ferrara che non ami l'Avis, ma perché noi siamo disponibili ad aiutare gli altri così come loro aiutano noi nelle nostre attività. Questo è il nostro messaggio, lavorare insieme per ottenere i risultati comuni. Vice Presidente Comunale ma anche consigliere dell'Avis regionale. Esattamente, io sono molto felice di essere qua in questa occasione per questa duplice veste che ricopro in Avis e faccio i miei complimenti alle donatrici e ai donatori di Ferrara per gli ottimi risultati che hanno raggiunto in questo ultimo anno e vi auguro che continuano così in modo tale da poter soddisfare sempre le esigenze che hanno i nostri ammalati sia a Cona che negli altri ospedali della provincia. Abbiamo incrementato di un 1,7-1,8% la donazione del sangue intero, abbiamo aumentato di molto la donazione del plasma che è l'obiettivo che la regione ci ha posto all'inizio di quest'anno, abbiamo fortunatamente la possibilità di avere nuove macchine per la donazione del plasma che è un componente del sangue decisamente molto importante per la produzione dei farmaci plasma derivati. L'Avis comunale in festa, poi nel pomeriggio alla Rivana ci sarà la premiazione dei donatori, però intanto le istituzioni qua stamattina hanno siglato insieme a tutte le Avis nazionali quanto è importante l'Avis di Ferrara, è così? Ma certo, stamattina abbiamo cominciato, meno male che c'è il sole, questa è una bella notizia, voglio dire la presenza di tutte le istituzioni e poi la Messa del Vescovo che apre proprio questi festeggiamenti qui nella Chiesa di San Paolo, bellissima, che devo dire ha fatto un'omelia splendida che è quello della solidarietà e del bene comune. Poi sono presenti tutte le forze dell'ordine, voglio dire non mancava nessuno, questo rapporto forte con le istituzioni, cioè l'amministrazione comunale al nostro fianco e soprattutto sono venuti anche tanti i nostri amici delle Avis con sorelle che sono con noi gemellate, cioè vado a dire è un esempio di come l'Avis di Ferrara abbia un radicamento forte a livello nazionale. Credo che sia questo l'aspetto più importante, il riconoscimento che hanno le altre Avis sul ruolo, l'importanza e soprattutto quello che noi facciamo, quei progetti che facciamo, che anche loro giustamente vogliono prendere atto e noi anche da loro impariamo tante altre cose. Credo che questi siano gli elementi più importanti, quello di uno scambio di informazioni e delle nostre realtà. L'Avis meno male che in Italia è cresciuta, meno male che in Emilia Romagna è cresciuta e a Ferrara ha avuto un risultato straordinario. Noi concorriamo per dare questo esempio qua, proprio di essere vicinanza alle nostre donatrici e donatori, sono loro i protagonisti di questa giornata. Grazie a tutti.